Allora, Mattia, premiamo Mattia per la collaborazione e l'interesse che presta in tutte le dovute cautele al nostro territorio in un momento così delicato e ci è sempre vicino un uomo sportivo, a lui un grazie grandissimo. Sarà premiato anche Marino il direttore di questo Oshan Mall, in questo momento credo non ci sia, ritira il premio Maurizio Mattella. Sì.